del Consiglio Comunale di Napoli, quale sarà l'apporto che vorrà dare soprattutto per le minoranze? Molto piace quello di lavorare, tutto se... Scusa. Sì. Qual è l'apporto che vuole dare per le minoranze? Qual è l'apporto che vuole dare per le minoranze? Una di che anni? I bambini e le mie mie scuole. I bambini e tutti andare in scuola, perché non andare in scuola, andare un'altra cosa, fumare, qualcosa, non va bene, nero, andare. L'importante è tutto andare in scuola, l'italiano, anche qualcosa in scuola andare. Quindi questo sarà l'apporto maggiore, quello per l'infanzia? Anche il bambino come in scuola è piccolo, anche la mamma e la papà lavorano, andare in scuola, in scuola piccola. Io pensavo a una persona aspettare a casa, a vedere il bambino a casa. Ma che cazzo stai a dire? Io pensavo a una persona aspettare a casa.